La infertezza di partenza di Deltini ma si è d'intraccaza notevolmente lungo la parte di vento, 10 e 15, è a 50 metri, sono 10 e 15, 25 metri, 10 e 19, Deltini taglia il traguardo per il tempo di... Vedo che prima di tutto dovrò andare a fare un sopralluogo nella pista, fare dei test e vedere com'è veramente questa pista, ma è una cosa per la fine di stagione. Allora guardiamo gli intertempi, l'intertempo della Carrera era 25,41, quello della Deltoco Connago 26,08 e 25,59 quello della Gavis Bianchi, ecco la Carrera sta andando fortissimo. A questo punto danno quasi un minuto la Deltoco, adesso mancheranno 300-400 metri ancora, non so quanti secondi potranno ancora perdere. Roscio Magliarosa No Rosso, adesso bisogna aspettare che arrivino quelli della Panasonic ma... Cerimonia velocissima, esatto, Deltini credo sia secondo a 15 secondi, sarà difficilissimo per tutte le altre squadre, per tutti gli altri corridori...